Buonasera, buonasera, benvenute, benvenuti alla prima puntata di Serial Minds Late Show di Giovedì, così Momenti stranissimi, momenti di panico, anche abbastanza importante quando ho fatto partire la diretta alle 22.20 Perché non si connetteva nessuno, invece no, adesso qualcuno c'è, dei nostri fedelissimi amici E quindi eccoci qui, poi vedremo se saranno di più o di meno la della fine e capiremo appunto se un po' per il coprifuoco, un po' per il cambio di giorno Se ci sono state delle cose che non sono tornate Allora, io ve lo dico, questa è una puntata impegnativa, questa non è una puntata in cui si scherza Noi siamo anche un sito serio e questa sera bisogna parlare di cose serie Perché non possiamo sempre e solo fare gli stupidoni con le cose da ridere Questa sera bisogna parlare di cose serie perché ci sono stati gli up front Vale a dire, le reti generaliste americane hanno detto cosa faranno alcune, in buona parte, le cose che faranno l'anno prossimo E noi ne dobbiamo parlare perché, ripeto, siamo un sito serio e perché comunque al di là dell'interesse specifico per queste singole cose Che non è molto, non anticipo Ci dà però il senso un po' di anche di come sono cambiate le cose Quindi dobbiamo fare un ragionamento un po' a 360 gradi Quindi stasera facciamo i professionisti Iniziamo però con una cosa che sembra che non c'entri Ma che poi ci ritorna nel discorso E' uscito ieri Non lo facciamo vedere perché il computer esplode Abbiamo già provato a farlo io, non è il caso E' uscito il... facciamo vedere un po' più in grande No, scusa, così E' uscito il trailer, diciamo vero, non il teaser Della famosa reunion di Friends Famosa reunion di Friends In cui vediamo i nostri sei protagonisti Invecchiati In maniera abbastanza evidente Tanto che addirittura avevo visto Non sono riuscito a... non ho fatto in tempo a salvarla Sono stato sciocco C'era che aveva fatto un... un fotomontaggio In cui al posto di Friends c'era scritto... qui c'era scritto Botox Che comunque... io non lo so se è... diciamo se il Botox ha avuto un ruolo Però sicuramente diciamo che la disponibilità economica ha prodotto anche del cibo Soprattutto... soprattutto in Metal Blank e David Swim Ma va bene, ma non siamo qui a fare bodi scemi Ci mancherebbe... si fa per simpatia E' uscito il trailer La cosa bellissima di questo trailer è che in realtà non è brutto Cioè, noi che abbiamo molta paura di questa reunion Il trailer in realtà è stato molto simpatico Perché? Simpatico perché ci ha fatto vedere quello che più o meno succederà Cioè, sappiamo che è un unscripted Quindi non è una vera e propria puntata Però, per esempio, si vede subito che hanno rifatto Quello che... se ci avete seguito la puntata scorsa Dicevo che era il mio episodio preferito Quello del quiz In cui non è che vanno a interpretare i personaggi Pidora si trovano nello stesso posto Loro o sei a fare il quiz Probabilmente con la gente sotto che parla, eccetera E poi si vedono momenti di intervista vera e propria Si rivede Janice Si rivede... insomma, sembra essere una cosa Non... forse se avessero veramente fatto un episodio Ho fatto una roba così Sarebbe stato un po' pacchiano Invece... non lo so Il trailer ha dato discrete sensazioni Soprattutto dal punto di vista del ridicolo Cioè, sembra che non sia una cosa ridicola Speriamo che sia così Tra l'altro mi ha fatto pensare Alla gente che c'era presente Nella registrazione di questa cosa Gli avranno fatto firmare col sangue Che non dicevano niente Ma tipo, se dite qualcosa su un qualunque social Veniamo a prendere voi e la vostra famiglia E vi deportiamo in Guatemala Cioè, una roba di questo tipo qua Quindi mi ha fatto molto ridere Comunque, 27 di maggio arriva E ora mi permetto di essere Leggerissimamente più ottimista Di come ero fino a poco fa Poco tempo fa Però, questo discorso qui Questo discorso qui È interessante perché Perché questa è una delle cose Di cui si è parlato di più Negli ultimi 24-48 ore A fronte del fatto che appunto Ci sono stati gli up front Cosa sono gli up front? Sono... è un momento ormai tradizionale Nella storia della televisione americana In cui le reti generaliste E nello specifico Le quattro principali reti generaliste Che sono Il rigoroso ordine alfabetico Perché così le tratteremo ABC, CBS, Fox e NBC A cui dovremmo aggiungere anche CW Che però fa numeri molto inferiori Però tendenzialmente La reti generaliste anche quella Comunque queste quattro grandi Grandi radio Grandi network Che semplicemente dicono Facendo uscire trailer Facendo uscire informazioni Alla stampa Foto e quant'altro Quali sono le serie Di punta Diciamo Per l'autunno televisivo È un momento Che ha anche ricadute professionali Importanti Per tutti quelli che lavorano In questo settore qua Cioè non anche quelli che lavorano lì Ma nel senso Tutti i giornalisti Tutte le cose Da me per esempio C'era il mio capo E comunque i dirigenti Che andavano a Los Angeles A farsi cinque giorni In cui gli facevano vedere Tutti i pilot Quest'anno no Perché c'è il covid E ce li hanno fatti vedere a noi Ci hanno mandato qualche Anche qualche pilot In streaming Qualcosina ho visto E non credo di potervi Parlare in nessun modo Di cose troppo specifiche Se no mi cacciano Però Però vabbè Insomma se c'è qualcosina Da una mezza opinione Ve la posso dare Vediamo Però Sicuramente Gli upfront sono anche un esempio Di come è cambiata un po' L'industria Di come è cambiata La questione Perché ormai Diciamo che una volta Erano un momento Veramente figo Adesso sono Un momento Televisivo Nella misura In cui sappiamo bene Che negli ultimi dieci anni Almeno L'importanza Della tv generalista Americana È Parecchio scesa Rispetto prima Alle reti cable E poi più di recente Alle piattaforme Di streaming Che dominano bene o male La nostra attenzione Anche perché Le piattaforme di streaming Tendono adesso Con le loro serie nuove A far uscire in tutto il mondo Quindi riusciamo ad avere Diciamo un senso di comunità globale Intorno a serie tv Di grande qualità Mentre le serie americane Che escono tipicamente In autunno Sono anche serie Che quando escono Escono solo in America Prima che arrivano qua Ci vuole del tempo Non arrivano tutte E quindi Insomma Quello che una volta Era un problema Che non ci ponevamo Più di tanto Arriva un anno dopo Arriva un anno dopo Quest'anno Anche arrivare tre mesi dopo Rischia di diventare Un po' complicato Non solo Naturalmente c'è la questione Appunto Che la maggior parte Delle serie di grande qualità Di grande appeal Ormai vengono Dalle piattaforme Che sembrano essere State in grado Di intercettare Un po' di più Un gusto E di critica E internazionale Ma in realtà Il tema è anche Che le reti generaliste americane Devono continuare a fare ascolti Nella tv americana E voi sapete Ce lo siamo detti Tante volte Che molte delle serie Che noi tendiamo a osannare Per esempio Su serial minds Poi sono serie Che in realtà in America Sono tendenzialmente Prodotti abbastanza di nicchia Perché se guardiamo La Il vero cuore Il vero La vera massa Si dirige ancora Verso serie generaliste Che possono essere NCIS Che possono essere Law and Order Cioè quelle sono ancora Le serie che fanno I grandi ascolti Anche Chris Anatomy Però che fanno I grandi ascolti Che poi appunto Cioè è la generalista americana Mentre invece Perché la massa Del pubblico Questa è Non è questione Di darne un giudizio Di valore Ma la massa Del pubblico Preferisce prodotti Abbastanza semplici Abbastanza inscatolati E in passato Le tv generaliste Sono state in grado Di aprire anche Nuovi orizzonti Pensiamo a Lost Pensiamo a Anche 24 Per esempio Però Adesso lo fanno meno Perché adesso Chi apre i nuovi orizzonti Sono le piattaforme E le reti cable Che hanno Un modello di business Diverso E anzi Devono fare cose Che siano un po' Groundbreaking Per far parlare di sé Mentre la generalista Non ha bisogno Che si parli di lei Sì ne ha bisogno Ma soprattutto bisogno Che la gente Stia lì A guardare I prodotti Cioè Non gliene frega niente Che poi se ne parli Tanto sui social Gli interessa Che la gente Vada lì a guardare E a guardare Le inserzioni pubblicitarie E quindi Nel tempo Forse È successo Che rischiano Ancora meno Di quello Che rischiavano prima Poi prima C'era anche Un modello Di produttivo Diverso Per cui si facevano Anche molti Pilot Che venivano Girati ogni anno La cosiddetta Pilot season Cioè praticamente Le reti Ordinavano magari 15 pilot Li giravano Veramente Con gli attori Tutto Li facevano Il bel pilot E poi però Ne sceglievano Di quei 15 Ne sceglievano 5 E gli altri Andavano al macero Cioè proprio Bruciati E nessuno Li vedeva mai O magari Venivano al massimo Ripresi un anno dopo Se Ma proprio Ma tendenzialmente Venivano bruciati Una cosa che si è smesso Di fare ormai Da un po' di tempo Per una questione Di costi Si preferisce Quello che All'epoca era Il Chiamato lo Straight to series order Vale a dire Il Ordinare una serie Direttamente Senza guardare Prima un pilot Che adesso in realtà È sostanzialmente La norma La cosa che mi Faceva un po' specie Pensando a friends È appunto il fatto Che la pilot Cioè Gli up front Hanno perso Un po' di appeal Perché ormai Da qualche anno Abbiamo preso L'abitudine A sapere Che queste benedette Reti generaliste Non tireranno fuori I mega capolavori E quando li tireranno fuori Lo vedremo a posteriori E invece Attendiamo con più ansia O le rivelazioni Che può fare La Netflix La Prime Video La Disney Plus Che però arrivano A caso Cioè nel senso Quando Netflix decide Di dire qualcosa Che arriverà Arriverà Hanno appuntamenti Meno standardizzati E un po' In realtà Vediamo che Ci piace la roba Nostalgica Ci piace Quindi ci entusiasmiamo Più per una Reunion di friends Sulla quale Abbiamo comunque Grande timore Piuttosto che Per 20 titoli Nuovi Che ci dicono Dagli up front In cui però Non sentiamo Che ci sia Questa Questa attesa Straordinaria Lithium Dice Scusate Io come al solito Quando sono da solo Butto l'occhio Solo raramente Perché se c'è Leggo i vostri commenti E cerco di parlare Non leggo bene i commenti E parlo male Quindi Vabbè Lithium dice Una volta gli up front Arrivavano insieme Alle notizie Le cancellazioni rinnovi Ma in realtà Anche quest'anno Sono arrivati insieme Alle cancellazioni rinnovi In questi giorni Stanno arrivando Notizie di vario genere Me ne sono segnate Anche un po' Da dirvi dopo Arrivano effettivamente Notizie su cancellazioni rinnovi Che in realtà Quello conta Perché sono serie Che già seguiamo O già Non seguiamo Ma odiamo E allora vogliamo vedere Se muoiono o vivono Però Chiaramente È tutto il carrozzone Che non è più Solo lì Una volta la televisione Era solo questa La televisione Sapevi quello che avresti visto In un anno In questi giorni qua Adesso non è più così Insomma Quello che vedremo in un anno Lo sappiamo da mille eventi diversi Che vanno avanti Durante l'anno E alle volte Li sappiamo Con pochi giorni d'anticipo Cioè Oh ma lo sapete Che fra un mese Vi cagliamo fuori Questa nuova serie Ramorosa E invece qua Siamo mesi e mesi prima Le reti generaliste Dice Sherlock Negli ultimi anni Nel prodotto quasi solo serie Monnezza Ecco L'hai detta in maniera Meno diplomatica Però la percezione generale È che L'avanguardia Della qualità televisiva Non stia lì Magari l'intrattenimento Ancora sì Ma l'avanguardia televisiva No Per cui Sono già le 22.41 Io mi volevo buttare A pesce In questa cosa Mi volevo buttare a pesce In questa cosa Andando in ordine alfabetico Se volete fare dei commenti Sulle serie Io vi consiglio Spassionatamente Ogni volta Di dire la serie A cui vi state riferendo Perché se no Non ne usciamo Perché magari io leggo Quattro serie Poi guardo i commenti Vedo il vostro commento È una serie che non ho capito qual è E non ci capiamo più niente Partiamo da ABC Partiamo da ABC Che già ci fa capire un po' Come cambiano i tempi Perché ABC Che ha presentato Se non sbaglio Cinque serie Cinque serie Mi sono segnato Di queste cinque serie Quattro serie Sono a tema Palesemente black Che un po' Fa capire L'onda lunga Di tutto Il movimento Di tutto Il tentativo Di cambiare un po' Il modo in cui Hollywood La rappresentazione A Hollywood Di tutti gli strati Di la società E ABC Diciamo che forse esagera Nel senso che presenta Solo serie coi neri Bello lo sforzo Però forse è un po' Esagerato Comunque La prima serie Che Che ha presentato La vediamo Così Se lo faccio partire La vediamo così Ora devo ritirare fuori Gli appunti Se no Non ne esco Si chiama Queens Vado a leggere banalmente Che sono quattro donne Sulla quarantina Che si sono perse di vista E che hanno abbandonato Il mondo dei riflettori Si riuniscono Per provare a riconquistare La fama e la sicurezza Di sé che avevano in passato Quando erano note Con il nome di Nasty Bitches Leggendario gruppo Hip Hop Degli anni 90 Questo fa un po' Specie Perché è la trama Esatta Però virata Al black All'hip hop E alle nasty bitches Di Girls5eva Che di cui non abbiamo Ancora fatto la recensione Su Serial Mines Ma che è uscita su Peacock E che è la stessa cosa Cioè quelle sono una specie Di Spice Girls Molto meno famose Ma che insomma Avevano fatto Diciamo tipo La SketchUp O le nostre italiane Come si chiamavano Dai Quelle là Ditemelo voi Quelle che avevano fatto Che erano uscite dal Dal Talent Madonna non mi ricordo Vabbè Comunque sia Le Lollipop Bravo bravo Raiden Le Lollipop E' la stessa cosa In Girls5eva C'erano queste cinque Che poi davantiate quattro Perché una era morta Quindi già faceva ridere Girls5eva E una è morta Quindi 5eva Era un paio di palle Però insomma E questa è la sua versione No la sua versione Insomma Però è una serie Che arriva In ritardo di qualche mese Rispetto a quell'altra E quindi Questa è la prima di ABC Di cui in questo momento Ci interessa niente Perché credo Che loro si possa dire No C'era una roba Che chi se ne fega Questa cosa Poi ce n'è un'altra Che si chiama Women of the Movement Tanto per non sbagliarci E questa è la storia vera Di Mamie Till Mobley Che nel 1955 Mise a rischio La propria vita Pur di ottenere giustizia Per la morte Di suo figlio Emmett Brutalmente assassinato Per motivi razziali Nella cittadina Di Money In Mississippi E insomma Ha fatto pure Praticamente Lei Questa Mamie Till Mobley È un po' considerata La L'inizio Un po' del movimento Per i diritti civili Così come lo conosciamo oggi Questa Forse Mi interessa Un filino di più Per il suo valore Anche storico O forse Perché semplicemente Non mi piace l'hip hop E qui almeno non c'è Però non sappiamo ancora Granché Di questa serie qui E quindi andiamo Andremo a vedere Poi c'è The Wonder Years Questa è La storia Di una famiglia Della classe media Nera A Montgomery In Alabama Che viene raccontata Attraverso gli occhi Di un ormai adulto Dean Williams Che ricorda la propria infanzia Nei Turbolenti Ma fantastici Anni 60 Come si vede Questa cosa è scritta Questa qui È uscito Trovate anche il trailer Se lo cercate Sembra Abbastanza Abbastanza interessante Senza essere una cosa Che ci faccia Onestamente Strappare i capelli Che non abbiamo Almeno io Boh Boh Vedremo Vedremo cosa succederà Però Per darvi il senso Questo qui è il tono Di un po' Tutte queste Queste serie qua Cioè A mio giudizio Poi magari mi sbaglio Su qualcosa E ce lo diciamo Però Ce lo diciamo Anche adesso Però mi sembra Che non ci sia niente Che come idea Faccia gridare al miracolo Soprattutto ABC Fa un lavoro Di posizionamento Culturale Intellettuale E vediamo Poi c'è Maggie Poi c'è Maggie Che credo sia L'unica di queste Non black In cui C'è una giovane Sensitiva Che riesce a leggere Nel futuro Di amici parenti Clienti E semplici Passanti Tuttavia Quando Un giorno Vede uno scorcio Del proprio futuro La ragazza è costretta A fare i conti Con il proprio Presente Questo mi fa pensare A Amalia Di The Nevers Che tra l'altro Non so se avete visto Il finale di The Nevers What? Ok Bene Non diremo nulla Sul finale di The Nevers Però Diciamo che Il finale di The Nevers Di stagione Quando si dice Ok Volevi sorprenderci Ci siamo sorpresi Obiettivamente Ma non diciamo Nient'altro Per chi ancora Non avesse visto Anche perché Non ho preparato Il Il coso Ci dice Butto un occhio E vedo Lithium che dice Nel 2004 ABC presentava Lost Certo Ma il 2004 2004 2005 Sono un Un bienio Abbastanza Clamoroso Perché presentarono Lost Desperate Housewives Grey's Anatomy E Doctor House Tutto in quel periodo lì E fu una roba Abbastanza Abbastanza Impressionante Pensando appunto Rispetto a quello Che stiamo vedendo oggi Bene o male L'ultima serie di ABC Si chiama Abbott Elementary Ed è un gruppo Di insegnanti Dediti Beh questa cosa Che ho trovato Un po' stucchevole Un gruppo di insegnanti Dediti al proprio mestiere E un paese Leggermente stonato Lavoro in una scuola Pubblica di Filadelfia E nonostante le difficoltà Sono determinate A voler aiutare I loro studenti Ad avere successo Nella vita Pur essendo Sottostaffati Sottofinanziati E quant'altro Qui siamo Nella comedy Il trailer Non è male Se lo cercate Non è male Ma soprattutto Mi piace Perché c'è Tyler James Williams Che era Che faceva Chris In Everybody hates Chris Se ve la ricordate Nel 2005 2009 E poi in realtà Ha fatto anche altre cose L'abbiamo visto anche altre cose Però rivederlo qui Era un po' che non lo vedevo Mi ha colpito abbastanza E ho detto Oh che bello E questa era ABC Passiamo a CBS Che è la rete Voi lo sapete Dei vari Appunto NCIS Dei vari Dei CDCSI Insomma Una delle rezie Scudiamolo End Order È la serie Dei Proceed Criminal Minds È la serie Dei Proceedural Per il pubblico adulto Che sta lì Si vede una puntata Poi magari ne salta una Poi ne vede un'altra Però sono contenti Perché riescono a seguire tutto E non ci sono nessun problema E sono le serie Alla fine Un po' più viste D'America Insomma A parte poi qualche eccezione In questo caso qui Questo che diavolo è Ah no Scusate Questo è Maggie Credo No Però Maggie Secondo me ho sbagliato Ah no Guarda Questa qui è Questa qui è Ghost Ho fatto un errore Pensavo comparisse In CIS A Y E invece no È comparso Ghost Vado sotto Ma è SBS Che è una comedy In cui c'è Una giornalista E uno chef Che praticamente Decidono di convertire Una tenuta di campagna In un bed and breakfast Solo che questo bed and breakfast È pieno di fantasmi Che lei riesce a vedere E i fantasmi Sono molto stupiti Del fatto che lei Riesca a vederli E Chiaramente Questi devono ristrutturare Il bed and breakfast La tenuta per fare Il bed and breakfast E però si trovano I fantasmi Che come potete vedere Sono Vengono da epoche diverse E con stili diversi E probabilmente Tutte un po' macchiette Così Questo sembra Devo dire Sembra abbastanza divertente Tutto sommato Più che altro Perché con tutti Questi personaggi Qui strani Probabilmente riesce a fare Riesce a fare qualcosa Di interessante Ciccio baciccia Vorrebbe far partire La sigla cringe Non so riferito a quale Forse a tutta ABC Ma Effettivamente qualche Rischio Ma il rischio c'è per tutte Queste cose qui Diciamo Vediamo se c'ho NCIS Hawaii Dopo questa Per niente Dopo questa Questa qui è Good Sam Questa qui è Good Sam Questi sono Sophia Bush E Jason Isaacs Che insomma Conosciamo bene Sophia Bush Da Alla fine da cosa Da One Trill Più un po' di cose così E Jason Isaacs Da un sacco di cose Oltre ad essere Il padre Di Draco Marfoy Tra l'altro Comunque Questa qui È la storia Di una cardiochirurga Che è lei E praticamente Lui Che è Un noto luminare Della cardiochirurgia Va in coma Lei prende il suo posto E però poi Quando lui si risveglia Rivuole il suo posto Lui deve essere un bastardo Veramente molto antipatico E quindi si crea Questa dinamica Per cui lei aveva preso Il suo posto E stava lavorando bene Ma lui rivuole Il posto che era suo A complicare le cose C'è il fatto che Wow È suo padre Ta 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 E c'è una cosa Bellissima Quindi vabbè Di questo credo Non avrei visto Neanche il trailer O forse l'ho visto E l'ho dimenticato Questo vi dà l'idea Più che altro Mi sembra Una serie Di quelle Che hanno il concept Che fa fatica A durare a lungo Perché La spieghi in una puntata Sta cosa Che lui si addormenta Va in coma E si sveglia Dopo tre puntate Tutto l'elemento Della tensione Quanto può durare La tensione Tra questi due Che lui si sveglia Cioè alla settima stagione Lei è lì E che dice Ah in quei tre mesi In cui tu non c'eri Ho fatto benissimo Non lo so Mi sembra Un pochino Rischiosetta Da questo punto di vista Vediamo cosa ci propone La mia numerazione Assolutamente a caso Questa è Smallwood Con protagonista Pete Holmes Che abbiamo visto Recentemente In Crashing Che era una bella serie Sulla stand up comedy Molto molto piccolina Però abbastanza divertente E quella cringe Ma volutamente Volutamente cringe Questo qui invece È una comedy Su un tizio Che viene licenziato Da un'azienda Una fabbrica Che fa assemblaggio Di automobili E decide di rivoluzionare La propria vita E provvedere alla sua famiglia Facendo il giocatore Professionista di bullying Che evidentemente Non è questa ideona Perché è giocatore Professionista di bullying Non so quanto possa guadagnare E non so quanto lui Possa essere bravo veramente Un po' lo sarà Perché se no la serie Finisce al pilot Però Sospettiamo che Succedano delle cose Un po' particolari Non so dire quanto sia Il concept è abbastanza Curioso Pitons è bravo A me lui piace molto Proprio perché È molto capace Di fare Cose imbarazzanti Ma non quell'imbarazzante Che ti crea necessariamente Disagio E scappare Imbarazzante In un senso anche affettuoso Quindi Tutto sommato Forse gli possiamo dare anche Un pochino di credito Vediamo Forse in realtà Se vado a vedere Magari mi compare la prima Infatti mi è comparsa La prima di Fox La verità Che è Fantasy Island La verità È che non avevo preso Delle foto Degli spin off Degli spin off C'è NCIS Hawaii C'è FBI C'è FBI International E c'è CSI Vegas Di cui in realtà Si è già parlato Cioè Di fatto Il sequel Della vecchia CSI Con di nuovo Gil Grissom Con di nuovo Sarah Seedal E tutta quella gente lì Tra l'altro è uscito Da un paio di giorni No Forse un giorno fa Il Un trailer Barra speciale In cui loro sono anche Intervistati E fa molto ridere Perché c'è Joria Fox Che è l'interpreta Di Sarah Seedal Che nel 2000 All'esordio di CSI Era quella giovane Che poi Faceva anche invaghire Gil Grissom E ora È vecchia anche lei Cioè Tutta sommata Gil Grissom è ancora più vecchio E lei è diventata Sostanzialmente vecchia E questa cosa Ovviamente ci sono poi Dei nuovi Dei nuovi attori Ci sono dei nuovi Insomma Dei nuovi reclute Che vanno Allevate Tirate su Però Questa cosa Mi faceva Cioè Di fatto Il termine Più adatto Per Ma come Castelli Mandami il link Che sono in metro Dice il Villa Non so neanche se riesco A aprire Whatsapp Ma sei in metro Ma vabbè Provo a mandare Un link al Villa Datemi un secondo Se riesco a Robert dice CSI Geriatric CSI Geriatric E il concetto È proprio Che sono stati Riesumati Secondo me Come dire Vediamo un po' Ho Ho mandato Al Villa Il link Per Connettersi A questa cosa Vediamo se è in grado Di connettersi Dalla metro Adesso Non posso fare niente Se non aspettare Che il Villa si connetta Scusate Come faccio a dire Qualunque cosa Prima che il Villa Si sia connesso Prima di passare A Fox Siamo già a metà Ragazzi Siamo già a metà Non è vero Perché è in Bicina Di più Però adesso velocizziamo Perché poi c'è anche Qualche news interessante Se il Villa Si connette Che momento Assolutamente Eccolo qua Aspetta un po' Add to stream Villa Buonasera 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 Sono a Pasteur Sei a Pasteur Speravo fossi a Precotto Ma fra poco ci andrai Fra poco ci andrai Fra poco ci vado Sì ho questo quarto d'ora Di dieci minuti Scarsi di metropolitana E così stavo seguendo Questa bellissima diretta Ho detto Ma perché non partecipare Ma infatti Sei arrivato su CSI Tra l'altro Una delle tue grandi Visto Visto Tutto calcolato E questa cosa è bellissima Ma se funziona Se adesso vediamo Che la gente si connette di più Dobbiamo assolutamente Poi fare in modo Che tu lo faccia sempre Cioè se devi diventare Un inverto sul campo Lunedì sei a Los Angeles Cioè non uscivo a cena Da agosto Per cui comunque Era complicata la cosa Sono stato da un ottimo Cino peruviano Qui a Pasteur Molto buono Cioè quindi non è che Dovei lavorare Cioè noi siamo Ma noi ci siamo spostati Dal venerdì Apposta per fare Per cazzeggiare di venerdì E tu esci di giovedì No 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 Era la prima volta Che uscivo da agosto La sera Cioè Me lo Non ho nessun senso di colpa Guarda Va bene Va bene Te lo concediamo Ma scusami Ma adesso Ma adesso Tu c'hai tipo le cuffie Sì ho le cuffie Cioè non è che Ci sentono a noi A me Voglio dire Come se fossimo tutti Ci sentono tutti a Pasteur Comunque volevo dirti Che il coprifuoco Finisce fra quattro minuti Però Da sopra Se la metodo non arriva C'è cinque minuti Di attesa Non è colpa mia C'è ragione pure tu C'è ragione pure tu Vabbè cosa facciamo Ci raccontiamo di cosa hai mangiato Al cino peruviano O vado avanti E tu tanto stupi Vai avanti Vai avanti Era molto buono comunque Benissimo Allora Andiamo avanti A questo punto ci mettiamo Così In modo che ci sia Anche tu Ma se facciamo così No ci sono solo io Facciamo così Sì vai tranquillo Vai tranquillo No no ma ci siamo così Ci siamo così E questa qui è Questa qui in realtà È molto vecchia Perché Fox farà Un sequel di Fantasy Island Che è una serie Che è anche passata da noi Anche se Con meno Insomma Rimasta meno calta Rispetto agli Stati Uniti Questa è un'isola Un resort di lusso Che offre ai propri ospiti La possibilità di vedere Realizzato un loro desiderio Non ho capito Sai come l'originale In cui usavano Praticamente dei Sta arrivando la metro C'è rumore fra poco Va bene Metti Metti Muto Non sono più capace Di fare nulla Se arriva Ti muto io Adesso sto salendo Per cui non posso urlare In mezzo alla gente Per cui vi ascolto Va bene Io ti muto adesso Se devi parlare Fai Allarghi gesti Perché teoricamente Ti vedo Molto bene Va bene Ti abbiamo mutato adesso Molto bene Questa cosa comunque È abbastanza eccezionale Francamente Comunque sia No Se n'è andato il villa No Aspetta che gli scrivo Sei sparito Sei sparito Se rientri Ti faccio Rientrare Evidentemente qualcosa Non ha fatto Cercava di togliere l'audio Eccolo qua Ma cos'è accaduto? Cose brutte Cose brutte Cose brutte Va bene Chiudo Richiudo il tuo microfono Va bene Andiamo avanti Andiamo avanti un po' Quindi stavamo dicendo Questo è un sequel Reboot di questa serie Del 78 In cui sostanzialmente Ci sarà la figlia Del protagonista Che porta avanti La questione La questione Andiamo avanti Andiamo avanti E troviamo Our kind of people Questa è Questa è Iaia da Costa Che viene da Chicago Med La foto non è Bravissima lei Bravissima Ma Allora non è vero Che ti avevo tolto Vabbè Comunque A me sembrava Bravissima Benissimo Sei comunque tu Che puoi fare Quello che diavolo ti pare Fantastico Comunque Ad Costa Questa è forse La serie che mi interessa Meno di tutte Questa è una tizia Che rischia tutto Decidendo di trasferirsi Con la sua famiglia A Martha's Vineyard Un'isola del Massachusetts Infiltrandosi Nella ricca e prestigiosa Comunità afroamericana Di Oak Bluff La donna spera Di migliorare Le vendite Della sua linea Di prodotti naturali Per capelli Io Credo che sia chiaro Il motivo Non sto più nella pelle Questa Questa cosa Non ha nessun tipo Di appeal su di me E io direi Di andare serenamente avanti Ecco invece una Che se andate a vedere Il trailer Per quanto sia Cheesy E sia stucchevole Forse non è male Questa è The Big Leap The Big Leap Che praticamente È una nuova serie Big Leap Lies No non è Big Leap Lies No È bello perché Sembra di avere tipo Sai Paolini Quello che si nasconde Dietro la gente Invece sei tu Va bene Comunque sia The Big Leap È una serie Che Allora La leggo Intenzionati a cambiare La propria vita Ad avere una seconda possibilità Alcuni Outsider Che outsider È sempre una parola Che piace Decidono di partecipare A un talent Potenzialmente rovinoso Finalizzato alla produzione Dal vivo Del balletto Il lago dei cigni A gestire la cosa In realtà A gestire la cosa C'è Scott Foley Che voi ricordate Sicuramente anche La Scanda L'ultima cosa Il mitico Scott Foley E poi c'è Piper Perabo Che credo sia questa Piper Perabo Che invece credo sia Una delle partecipanti E Allora Detta così Sembra L'ennesimo Glee L'ennesimo Chi se ne frega Il trailer però Trasmette qualche piccola sensazione Non dire cazzate Non dire cazzate Dai Dai Sarà sicuramente Una cosa Super lacrimevole Però anche un po' divertente Però insomma Secondo me Poteva esserci di peggio Poi c'è Monarch Di cui non ho la foto Perché non c'è Monarch È una roba Ambientata a Nashville Con questa famiglia Dei romance Che praticamente C'ha le mani in pasta La musica country Ma a un certo punto Va tutto a farsi benedire E uno di questi romance Deve in qualche modo Che è l'erede dell'impero Della famiglia Deve proteggere Il potere della famiglia Una specie di Nashville Sono solo le novità brutte Stasera Quelle belle No sono solo Sono le novità Sono le novità Molto bene Molto bene Quindi va così Forse Forse Dobbiamo chiudere il sito A questo punto Era ora Diciamolo che era ora Era ora Questa diciamo che Questa secondo me Vuole essere Nashville meets Succession E probabilmente Sarà Molto meno bella Di Succession Ma alla fine Anche Nashville Forse sarà meno bella Anche di Nashville Che era la prima roba Un po' canto La tua presentazione È molto meglio Di tutta la sinossi Comunque È possibile Questo tuo misto È possibile E poi abbiamo Invece Questa può essere interessante Questa è The Cleaning Lady Che è Tratta da una serie Argentina Che si chiama La cica che limpia Che è la medesma Che è la medesma Che è la medesma cosa È la medesma cosa Della signora Della signora Delle pulizie Delle pulizie E questa è The Cleaning Lady La cica che limpia E questa È bella perché Perché questa È una dottoressa Cambogiana Che praticamente Ha la sua carriera Ha le sue cose Però a un certo punto Il figlio Il figlio si ammala Lei deve andare via Da lì Per andare negli Stati Uniti A far cuore il figlio Ma là Non le riconoscono La sua laurea Quello che è Si deve mettere A fare le pulizie Ma Cosa succede Praticamente Praticamente Lei a un certo punto Ha bisogno Di tirar fuori i soldi Di tirar fuori le cose E praticamente Entra in connessione Con un Mafioso Che La fa diventare La donna Delle pulizie Del crimine organizzato Quindi lei farà Le pulizie Ma nel senso Che questi Ammazzano la gente E lei pulisce I cadaveri Toglie Le macchie di sangue Dai posti Dai Questo è un Non c'era già stato Qualcosa del genere La cica che limpia In Argentina C'era La cica che limpia Ma qualcosa del genere Non c'era già stato Non lo so Qualcosa di medico Della mafia Secondo me Ne sentivi così Il bisogno Che ti sembra Di averla già conosciuta No allora Medici in mezzo Alla mafia Ce l'hanno già stati Però questa Che fa le pulizie Poi ovviamente Essendo dottoressa Figurati Sai quante volte Capiterà che in realtà Può salvare qualcuno Piuttosto che il mafioso Che viene sparato Lei deve pulire Ma anche Ma anche così Daniele dice Che mi escuserebbe Hablare nel spagnolo Un sacco di tempo E questa è una cosa Bellissima Ti stai appropriando Di questa cultura Ovviamente Me sto appropriando No perché Soi metà Spagnolo Tu non lo sabes Ma mi madre De parte De madre Non è vero per niente Mi chiamo di Cormano Grazie C'è Aliena Che dice Che finora Non c'è niente Che aveva provocato Un minimo interesse Io vi dico la verità A me la cica che limpia Per ora è l'unica Che mi crea interesse Di tutte quelle che abbiamo visto Immagino Quello di cui avete parlato Fino a questo momento Quindi ABC è stata una tragedia Perché te lo volevo dire Erano 5 serie Di quei 4 tutte black In cui c'era tantissima voglia Di essere la serie black Dell'anno Proprio Sono tre donne Che si conoscono Fin dall'infanzia E una di loro La loro migliore amica Muore Muore E praticamente Prendono coscienza Che la vita è breve E decidono di dare una svolta Alla propria esistenza Prendendo un po' Insomma un po' Sarà un po' Bucket list Un po' così Insomma Si mettono a fare Cose un po' pazze Le sberle Le sberle Le tre tizie In questione sono Maggie Q Ginnifer Godwin Che era la biancaneve Di One Sapone Time Che so che tu hai seguito Dall'inizio alla fine E poi anche Elisa Coop Che avevamo visto In Scrubs Faceva Denise E recentemente L'abbiamo vista In Future Man Che è lei E delle tre Su tre È l'unica simpatica Quindi già il fatto Che c'è una comedy O dramedy Con tre protagoniste Solo una è simpatica Secondo me la dice lunga Su quello che potrà succedere Attenzione però Perché adesso Siamo all'ultima serie Di Fox Ed è l'unica Che secondo me Può avere veramente Qualcosa da dire Che è Welco L'hai costruita L'hai costruita Con un climax ascendente Climax straordinario Che è Welcome to Fletch E già io vi faccio vedere La faccia di Sean William Scott Cioè di Stifler E voi già Di American Pie E voi già siete felici E voi già Siete felici Felici Siete felici Perché questo Questa roba qui È un Mocumentary Mocumentary Che a noi un po' ci piace No? Parks Regregation The Office È un Mocumentary Siamo quella gente lì Quella gente del Mocumentary Siamo la gente del Mocumentary Che praticamente È una troupe Che decide di girare Un documentario Sulle vite Le preoccupazioni E i sogni dei residenti Di una piccola città americana Del Midwest Che ovviamente È un posto Pieno di decerebrati Cioè Non se ne salva uno Sono tutti idioti C'è Sean William Scott Che è un punto di partenza Che di solito ci piace Ci piace C'è Aya Cash Che è quella di You Are The Worst E più di recente Di The Boys Ed è prodotto E diretto Da Paul Feig Che è stato produttore E regista Di The Office Di Bridesmaids Insomma è uno che sa Come si fa la commedia E posso dire Anche dello show Di Joel McHale Che non si è cagato Nessuno in Italia È su Netflix Ed è molto divertente Sì Sì Lo confermo Questa cosa Confermo Insomma Qui c'è gente Che sa fare la comedy Con un genere Che nella comedy Funziona Con un'ambientazione Che nella comedy Di solito funziona Quindi Ci sono un po' Di elementi Sean William Scott Sean William Scott Fa il prete Stavo appunto per dirlo Cioè ragazzi Una cosa volete di più Dalla vita Evidentemente Questa la dobbiamo La dobbiamo aspettare Tra l'altro credo Che il Scusa Diego Ti avviso che sto scendendo Tra poco scendo Dalla metro E quindi seguirete La salita alla banchina E poi l'estrazione Dell'abbonamento Non so se siete pronti A queste emozioni Ma tu lo sai Tu lo sai Ma tu lo sai Ma tu lo sai Ma verità Questa è la classica situazione In cui poi ti succede qualcosa Cioè ti aggrediscono Assolutamente Oppure tu aggredisci qualcuno No 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 C'è un omicidio Alle mie spalle Un omicidio alle tue spalle E tu scappi fortissimo Ma da queste riprese E noi concitatamente Diremo così E trarranno una serie Tra l'altro Da questa cosa E sarà La cosa bella Che sono le undici C'è pochissima gente Che nessuno ti giudica Mentre dici stronzate Guardando un telefono Ma poi la verità È che hai la mascherina E quindi potrebbe essere Chiunque Il suono potrebbe arrivare Da qualunque posto È vero La mascherina Non c'è in colato Questa cosa Potresti essere Un ventrilo Cioè non si può sapere Hai ragione Non si può sapere È vero È vero È vero Comunque Abbiamo il momento sponsor Con Sakebon Allora i Sakebon Mi piacciono Devo dire Sì perché non capisci Un cazzo di cibo Mi piacciono Sakebon No però Quando prendo Le cose precotte Non sono la mia prima scelta Onestamente Però è capitato È capitato E quindi va bene E quindi va bene Ti ricordo Devo estrarre l'abbonamento Per cui potrei fare Un po' di casino Col telefono adesso D'accordo Va bene Questione di secondi Mette il muto Sì mette il muto Abbiamo finito Fox Che almeno Ha tirato fuori Un paio di cose Soprattutto questa Welcome to Flash Che vale forse la pena Perlomeno I dagli un'occhiatina Passiamo a NBC Che è l'ultima Passiamo a NBC Che è l'ultimo Dei grandi network E anche quello Che ne ha di più E tutte cose Di cui non ce ne frega Niente Come esattamente come prima Questo è Ordina Tra l'altro Ho delle Sinossi più corte In buona parte Questa è Ordinary Joe Che è praticamente Non ho capito Come la strutturano Dal punto di vista Proprio Della messa in scena Ma è una roba Alla sliding doors Cioè c'è questo tizio Che si immagina Come sarebbe andata La sua vita Se quella volta Avesse preso quella decisione Quella volta Quell'altra Una volta vuole fare Tipo il poliziotto Come suo padre Un'altra volta Vuole fare il cantare Non funziona Sì però è un'altra Di quelle cose Che non ho capito Se però Cioè tipo che Non credo che sia Ogni puntato Ci fa vedere Una vita diversa No Però magari Ci fa vedere Settano 4-5 vite E portano avanti Tutte queste 5 vite Verosimilmente Io mi aspetto Facendolo intersecare Cioè lui incontrerà Magari la stessa persona Ma in una carriera La tratterà in un modo In un'altra carriera La tratterà in un altro Io che guarderò Solo il pilot Cosa traggo da questa serie Quindi secondo te No infatti tu non puoi Recensire questa serie Non vale Non si può fare È tua È tua Però tanto Questa non esce in beach watching Questa esce la prima Quindi effettivamente Si può recensire la prima Si può recensire la prima Poi NBC Deve avere la sua bella quota E c'è Grand Crew Che è una comedy black Questa Onestamente Ho visto Un lungo Riassunto Per lavoro Cioè che me l'ha andata Non la capisco Perché è una specie di Comedy di amici E cose che fanno Cose che vivono la vita Come qualunque comedy In cui però si sottolinea Il concetto Come dire I neri hanno anche loro Sono anche loro persone Cioè che quindi Possono fare Ma che lo stai dicendo Ti giuro Cioè A un certo punto C'è un tizio vecchio Che tra l'altro Non mi ricordo il nome dell'attore Ma quando lo vedete Sarà Morgan Freeman No Era Eh no Lo so È il vecchiettino Che faceva anche Two Brokers Che ora mi sfugge il nome Ok E praticamente A un certo punto Lui dice Anche noi abbiamo Gli strati Cioè come dire Ma cosa pensavi Che io pensassi Dei neri Voglio dire Che fossero Delle cose Di plastica Che fatica Ma poi vediamo Sitcom coi neri Da sempre Cioè non capisco Quindi improvvisamente Hanno deciso Che No Vabbè Quindi È un concept Che francamente Non ho ben capito Però magari Però magari Non ho capito bene io Poi c'è Ci hanno fatto vedere Ma non credo di avere Una foto di questa cosa qui Infatti Io tra un minuto Tra un minuto Sono in ascensore Per cui poi vi saluto Evidentemente Va bene Ma a noi fa piacere Sapere che Se tu sei tornato a casa Sano e salvo Questo è E certo Mandaci Ma lascia un commento Sulla chat Che io posto Non posso leggere i commenti Perché se leggo i commenti Non posso poi togliere il mutuo E rimettere il mutuo Ma infatti Ma infatti a me basta solo Che tu lasci un commento Dopo dicendo Sono a casa Va bene Lo farò Facci sapere che sei a casa Ecco Lo farò Lo farò Tu parli di Joshua Jackson Io a un certo punto Mi stacco Tu vai tranquillo Ciao amici Ci sentiamo la prossima volta Va bene In realtà Non parli di Joshua Jackson Perché prima volevo parlare di Fires Ma secondo me È una roba che Non so neanche se arriva su NBC americana Perché in realtà È una serie australiana Che ci hanno fatto mezzo vedere Ma era bella Perché è una roba Dedicata ai fatti veri Dell'Australia Degli incendi Che insomma Sono stati recentemente Un grosso problema Nei mesi scorsi Però c'è dentro Miranda 8 Anna Torv E Sam Wartington Che insomma Tutti attori australiani Che giustamente Si sono messi a fare Anna Torv Sapevo che Anna Torv Avresti rimesso l'audio Ero abbastanza certo Di questa cosa Ma onestamente Non so neanche se arriva Sulla tv americana E probabilmente sarà Una stupidata Perché le serie australiane Di solito Sono proprio come le serie americane Ma con tanti soldi di meno E quindi Boh vabbè Parliamo invece di Joshua Jackson Che Ma questo l'abbiamo già parlato Che è Doctor Death Con anche Alec Baldwin E Christian Slater Una mini serie Su una storia vera Di un chirurgo Non proprio giusto Di testa Guarda che bella immagine Fantastico Molto bella Meglio Secondo me Una regia più ardita Della metà dei pilot Di cui abbiamo parlato Fino adesso Facile Facile Nessuno dei pilot Avrà un'inquadratura Di questo tipo qui Adesso salto Ciao amici Ciao E Allora Stavamo dicendo Doctor Death No Questa sembra una cosa Molto interessante Molto interessante Poi miniserie Un po' evento Con attori di spessore Questa la guardiamo Con molto gusto Sperando che appunto Sia una cosa breve Ma intensa Poi c'è American Auto Questa è una comedy Ambientata a Detroit In cui ci sono I dirigenti Di un'industria automobilistica Di una casa automobilistica Che praticamente Devono Cambiare un po' Perché devono adattarsi Ai tempi Detroit è un po' La patria Dell'auto Negli Stati Uniti E anche dell'auto Vecchia Non so come dire C'è questa idea Un po' nostalgica Dell'auto americana A Detroit E Praticamente Ci sarà quindi Una specie di scontro Tra quelli che hanno Una mentalità un po' Retrograda Sia dal punto di vista Industriale e commerciale Sia dal punto di vista Probabilmente umano E nuove leve Invece più smart E questa è creata Dagli stessi creatori Di Superstore Che è una serie Che io Di cui avevo visto Metà della prima stagione E poi avevo smesso di seguire Non era neanche brutta Onestamente Con America Ferrera Non mi aveva coinvolto In maniera così particolare Poi l'avevo mollata Ma di certo Non era Non era terrificante Ecco Lithium dice Che non ha capito niente Sulla serie con Joshua Jackson Allora te la ridico È un chirurgo A cui muore Della gente Questa è una storia vera È un chirurgo A cui muore Della gente Molta gente E da quello che si è capito Io non sono nemmeno Andato a leggere Attenzione La storia vera Che c'è dietro Quindi vi dico Quali sono i miei pensieri Ma non lo so Questo la gente La gente La ammazzava veramente La ammazzava di gusto La ammazzava con voglia Per motivi suoi Che non so E però Ci sono quelli dell'ospedale Che cominciano a capire Che qualcosa non va A morti sospette E cominciano a indagare Su di lui Che in teoria però Dovrebbe essere un chirurgo Di grande fama Che queste cose Non le fa E quindi E quindi poi lo indagano E succederanno cose Quindi diciamo Siamo nell'ambito Del thriller Più che del medical Strettamente Ecco Eravamo praticamente Alla fine di NBC Mi mancava una roba Di cui mi interessa Ancora meno Ma magari c'è qualche Appassionato Appassionato tra di voi Che è La serie su Chucky Il versione seriale Di una saga horror Che ne ha fatte talmente tanti Che è una serie Anche quella Praticamente Chucky la bambola assassina A me l'horror Non piace particolarmente Forse ve l'ho già detto In passato Quindi non sono Un grande esperto di horror Di Chucky Io ho visto qualche Ho visto un paio di film Di quelli forse Un po' più vecchi Non mi è mai interessato In nessuna maniera Questa cacchio De bambola Che poi ammazza la gente Non lo so Tra i personaggi Che ammazzano la gente Nei film horror Mi sembra quello Meno credibile di tutti Sto nano Alto 60 cm Di plastica Che ti viene a ammazzare Sì una volta può capitare Ma quanti te ne può ammazzare Ora Naturalmente Ci sono grandi appassionati Tra di voi Che dicono Nooo Maledizione Vabbè scusate Però la versione seriale Poi Di un horror Con un personaggio Singolo Così preciso Secondo me È una roba che Perde fiato Dopo tre puntate Tre Già ha perso fiato La saga Nel suo complesso Quella cinematografica Figurati una serie Che riparte Da quella roba lì Non lo so Però Chi lo sa Magari ci stupiscono Erika chiedeva Come si chiama la serie Con Joshua Jackson Ma già Arriva a cappe Sempre prima di me Che dice Doctor Death Doctor Death Il dottor morte Ah non avevo finito Scusate C'è un'altra Ce ne sono altre Di NBC Ancora tre Che sono Una non ho le foto Che è Una è Harlem Già avete capito Un po' Di che si parla È una comedy Al femminile Ad Harlem Con donne Che sono a ricerca Di identità Ricerca di un uomo Ricerca di nuovi equilibri Con l'altro sesso Ok Vabbè Non è Certamente il concept Più interessante Della storia Di per sé Poi magari È una serie bellissima Poi c'è Poi c'è La Brea Questa rischia di essere Una cagata Di proporzioni straordinarie Perché praticamente La storia è quella Che nel mezzo di Los Angeles Si crea una voragine gigante Gigantissima Guardate anche la foto Gigantissima Ma che in qualche modo La gente che ci finisce dentro Finisce Trasportata nel Diecimila A.C. E Diciamo che Questa è un concept Molto più gustoso Di Harlem Cioè perlomeno Dici No Quella col buco A Los Angeles La voglio vedere Però poi È molto facile Che quella bella Sia Harlem E quella che Molly dopo Mezza puntata Sia la Brea Che diventa Una roba Terrificante Dopo pochissimo Il Villa Intanto è arrivato A casa Dice Sono salvo Sono salvo E ci comunica Che si lava i denti Grazie Villa È stato Un bel momento È stato Un bel momento E soprattutto Grazie per questo Collegamento Perché Aprirci ai collegamenti All'esterno È un po' La nuova era Dell'H.O. L'ultimissima di NBC Poi ce n'è una di HBO Poi due news E poi ce ne andiamo Perché già Così Un po' nello sconforto Se me lo consentite E l'ultima è The Thing About Pam La protagonista È Come vedete Ve la faccio un po' Come Facciamo così La protagonista È René Zellweger La storia è questa Nel 2011 Questa Betsy Viene assassinata brutalmente Suo marito Russ è il principale Indagato E il processo Suo carico Porta la sua condanna Tuttavia Russ Continua a dichiarare Fortemente La propria innocenza La situazione Prende una piega Diversa Quando l'omicidio Di Betsy Innesca una catena Di eventi Che mettono in luce Uno schema diabolico Architettato da Pam Hupp Una pericolosa assassina Credo che René Zellweger Sia la pericolosa assassina Non certo la morta Perché se no Non la vediamo più Dopo mezza puntata Questo invece È un concept Molto Preciso Mi sembra che Abbia raccontato Già veramente Un sacco di roba E Ok E quindi Vabbè Anche questa A parte René Zellweger Di cui si parlerà Abbastanza Perché c'era René Zellweger Vabbè Vediamo Vediamo cosa succederà Più Un pochino più interessante Anche perché di questa In realtà Ho già visto il pilot È una cosa Che ha annunciato HBO Max In questi giorni Quindi usciamo Dall'ambito dei generaliste Che è finita La faccenda delle generaliste CW Credo che non abbia ancora Fatto gli up front Ne riparleremo magari Nei prossimi giorni Ma CW Non è che mi aspetto Chissà che Onestamente HBO Max Ha presentato Minx Che è una serie Anche questa Ambito femminile Femminista Ambientata negli anni 70 C'è una giovane femminista Che è interpretata Da Ophelia Loviebond Si unisce A un editore Un po' scamuffo Che fa soprattutto porno O comunque soft porn Per creare La prima rivista Erotica femminile E il prononista maschile È Jake Johnson Che era Nick Di New Girl Ho visto il pilot E' carino Cioè l'ambientazione 70's E' molto scansonata Come cosa Quindi ve la dovete immaginare Come il tentativo Di fare una cosa Che sia femminista Ma molto scansonato Molto Molto leggero Quindi Dice cose Interessanti Dice cose giuste Dice cose precise Però lo fa all'interno Di un'atmosfera Comunque divertente E Zuzzurellona Mi verrebbe da dire Poi chiaramente C'è questa cosa Della rivista Che è indirizzata Alle donne Quindi ci sono soprattutto Uomini che vanno a spogliarsi Insomma È una cosa Un pochino questa Un pochino diversa dal solito E questo è tutto quello Che c'era da dire Ah Sugli up front Prima mi chiedevate Aspetta che tolgo questa cosa Prima mi dicevate Ah la cosa dei rinnovi Delle cancellazioni Prima di darvi un paio Di altre notizie Un po' specifiche Possiamo dirci Alcune cose Che hanno rinnovato In questi giorni Per esempio Ve le dico un po' rapidamente Sperando che capiate Aliena dice L'ha detto carino Sì È una parola che adoro Alle volte mi è capitato Di riferirmi Con la parola carino O carina Anche a Donne Fanciulle Non nel senso Ciao sei carina Ma nel senso di descriverla così Ho scoperto che A molte donne Non piace Per il fatto che Le fa sembrare Una roba bambinesca Non lo so Non lo intendo così È che a me Una donna Una ragazza carina Ha proprio un significato Molto preciso Ed è in realtà Dal mio punto di vista Molto un complimento Poi ho scoperto Che non sempre è così Però fa niente Allora Serie rinnovate Che sono state annunciate In questi giorni Non ho pretesa Che siano tutte È un po' di quelle Che mi sono segnato Hanno rinnovato Young Rock Quella sull'infanzia Di Dwayne Jones Hanno rinnovato Kenan Che andava con lui Comedi Di cui chi se ne frega Mr. Mayor Che sono molto contento Hanno arrivato Call Me Cat Che ne abbiamo parlato malissime Tipo penultima Nella nostra classifica Ma l'hanno rinnovata Con Maim Bialik Come diavolo si chiama Che faceva The B20 Hanno rinnovato The Goldbergs Hanno arrivato The Conners Che ho visto Poco prima di questa diretta L'ultima puntata stagionale Hanno arrivato Home Economics Non ne abbiamo nemmeno parlato Sul sito ancora E' una comedy Di poco interesse The Rookie Con Nathan Fillion E Million Little Things Che è una specie di cugina Di This Is Us Da un punto di vista Del mood Ma che noi ci siamo cagati poco Io ho visto il pile Poi non ho più visto niente In America Funziona molto bene In realtà Poi Be Positive Anche di questa Non abbiamo parlato Col protagonista Di Silicon Valley Commediola Con lui che ha bisogno Di un Cioè in realtà Sì con lui che ha bisogno Di un trapianto E una ragazza Completamente diversa da lui Qui si offre Di donargli un rene Insomma è una roba Abbastanza divertente È una roba tripilot Per voi che conoscete Le nostre abitudini editoriali United States of Al Quella di cui avevamo parlato Con Che di cui siano lamentati Perché il personaggio afgano Non era interpretato Da un afgano L'hanno rinnovata Chad Con mia sorpresa Ne abbiamo parlato L'altro giorno Super cringe Però l'hanno rinnovata Perché quella è TBS Che aveva bisogno Di rinnovare cose Hanno rinnovato The Resident Un medical Con Emily Van Camp Che io ho mollato Ma com'è possibile Che abbia mollato Un medical Con Emily Van Camp Però l'ho mollato Invece in questi giorni Hanno cancellato Prodigal Son Con Michael Sheen Non è neanche male Hanno cancellato Rebel L'abbiamo parlato La seconda stagione Che era un legal Protagonista Una tizia Faceva la giudice E va bene Mentre invece Netflix Ha ordinato Il Non credo L'abbiamo detto Anche se è una notizia Di qualche giorno fa In realtà Hanno ordinato Il prequel Di Bridgerton Che già è stata Sapete che già è stata Rinnovata per due stagioni Hanno ordinato Il prequel Sulla regina Charlotte Che Chiaramente era diventato Un personaggio Stuzzicante No? Perché sapete Che col fatto che Bridgerton aveva Il blind casting Erano Insomma il cast misto Dal punto di vista Del colore della pelle E tutto partiva Da questa regina Charlotte Che era stata Sposata dal re Che in qualche modo Aveva sdoganato I neri In questo Mondo ucronico Immaginato da Bridgerton E Quindi è un personaggio In cui si è parlato molto Ah sì È presa da C'è il personaggio reale Che insomma Hanno Netflix ha capito Che c'era interesse Su questo personaggio qui E faranno il prequel E quella comunque È una storia abbastanza interessante Se vogliamo Cioè il re che va a prendere una Che in teoria Nel prequel Invece i neri Dovrebbero essere trattati Come sono stati trattati Veramente E lei Sdogana tutta la faccenda Insomma Quindi Una roba abbastanza Abbastanza interessante Vi dico qualche news Prima di salutarci Veramente sulle 23 24 Intanto state dicendo cosa? No Be positive Peggior serie dell'anno No Io voto no A questa cosa Assolutamente Se la recensiamo Non finisce alla fine Beh È certamente una cosa Che tutto sommato Chi se ne frega Ma secondo me Sono i due protagonisti Sono molto bravi Allora No Una notizia purtroppo Brutta Cioè brutta Siamo venuti a saperlo Perché in realtà È così da tanto tempo Billy Porter Che insomma Conoscete Conosciamo come Prey di Pose Ha annunciato E questa è una storia Da un certo punto di vista Che flascia completamente Il cervello Ha annunciato Di essere Si ero positivo Da 14 anni Ha fatto tutto Un discorso Ha fatto tutta Una spiegazione Una specie di lettera aperta In cui ha spiegato Che per molto tempo Tutti quelli che avevano bisogno Di sapere Lo sapevano Tranne mia madre Stavo cercando Di avere una vita E una carriera E non ero sicuro Di poterlo fare Se le persone sbagliate Non l'avessero saputo Sarebbe stato Un altro modo Per discriminarmi In una professione Che è già discriminatoria Di suo E poi nell'ultimo anno Insomma Ha cominciato Una terapia traumatologica Per iniziare Il processo di guarigione Insomma Fortunatamente sappiamo Anche che Nel 2021 L'AIDS E la seropositività In particolare Che è lo stadio Diciamo precedente Alla vera e propria malattia Non è Più una condanna Certa di morte Resta tuttora Una malattia Teoricamente incurabile Però si riesce Insomma L'aspettativa di vita Dei seropositivi E di malattie di AIDS È più alta Di come era una volta Per fortuna E lui poi parla Di aver subito Abusi sessuali Dal suo patrigno Quando aveva Dai 7 ai 12 anni Insomma Una storia Molto Molto Pesante Insomma Molto Molto importante Ma la cosa che mi fa Che veramente Mi lascia così È che è esattamente La storia che stanno raccontando In pose In questo In questo periodo qua Cioè Adesso io non so Se siete in pari con pose Non diciamo proprio Le ultimissime cose Però Già dalla seconda Dalla stagione scorsa Si sa che il personaggio Di Prey È seropositivo E Chiaramente Non credo di fare Un grande spoiler Se vi dico Che la cosa va avanti Nella terza stagione Che è anche l'ultima Della serie Però Nel leggere Se siete in pari con pose Nel leggere Queste Queste cose qui Vi rendete conto Che La sceneggiatura di pose Forse a questo punto Non a caso Probabilmente Anche In termini di Dialogo con lui E di possibilità Di costruire insieme Una narrazione È veramente 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 Molto aderente A quella che Ora scopriamo Essere la sua vita La sua vita reale Presente Passata Quindi è una cosa Che mi ha molto colpito Soprattutto dopo L'ultimissima puntata Di pose Andata in onda Domenica E Dopo quella Ho letto questa cosa qui E ho detto Oh mamma mia Questa è la realtà E la fantasia Che si uniscono In maniera clamorosa Tosta Una cosa tosta Pose Pose Se non l'avete Ancora vista Non l'avete mai vista Merita È una serie Molto esagerata Da un certo punto di vista Molto lontana Dalla nostra Sensibilità Di bianchi italiani Perché è una Non è neanche una serie Di neri È una serie Di neri New Yorkesi Di fine anni 80 Non so come dire È veramente una cosa Molto specifica Ma che apre Apre il cervello Su non solo Alcune tematiche Importanti Dell'attualità Ma anche su Proprio pezzi di cultura Che semplicemente Noi in Italia Non conoscevamo Non avevamo nessuna idea Di cosa fossero E da questo punto di vista Qua è molto Molto bella Artisticamente Ma anche molto istruttiva Proprio da un punto di vista Culturale Andiamo avanti Fanno uno spin off Di Rick and Morty Sui Vindicators Che era una squadra Di supereroi intergalattici Che si era vista In un solo episodio Nella terza stagione Di Rick and Morty Tra l'altro Morivano quasi tutti Ammazzati da Trappole piazzate da Rick Ma è piaciuto il concetto E quindi Fanno uno spin off Che probabilmente Sarà un prequel Di quella Di quella puntata lì E va bene Non ci stiamo Sopra troppo Però insomma Cose che nascono A Rick and Morty Fanno sempre piacere Altra notizia Che mi fa Super ridere Super ridere È perché c'è Julie Plec Che era la co-creatrice Di The Vampire Diaries Insieme a Kevin Williams Che a sua volta Era il creatore Di Dozen Creek Julie Peck Praticamente Farà un'altra serie Sui vampiri Come se non fosse finito Il periodo Di vampiri Che si chiamerà Vampire Academy Che viene Ancora una volta Da una serie Di romanzi Di Richelle Mead Credo si legga Mead Che è creata Da Julie Peck E anche da Margaret McIntyre Che La vedete nella foto Faceva lo sceriffo Forbes In The Vampire Diaries Quindi è passata Dall'essere attrice A co-creatrice Di una nuova serie Sui vampiri Ma la cosa Che mi fa ridere È che Julie Peck Che ha firmato Un contratto Con Universal Ha detto Quando ho firmato Il mio nuovo contratto Con la Universal Television Mi hanno chiesto Quale progetto Stavo morendo Dalla voglia di realizzare La mia risposta immediata È stata Vampire Academy E io Io dico Cioè Hai creato Vampire Diaries Hai creato The Originals Hai creato qualunque tipo Di spinos Ma non ti sei Il rotta le palle Di parlare Dei vampiri adolescenti Cioè Non arriva un momento In cui vuoi fare un'altra cosa Ma io Questa cosa qui Scusate Non sto mostrando la foto Grazie Grazie Cappe Ehm Era questa qui Perché avevo gli appunti sopra E non l'avevo visto Marguerite McIntyre Eccola qui E Insomma Forse non l'avevo mostrato Nemmeno a questo punto Rick and Morty Vabbè Era questo qui E avevo mostrato Billy Porter Vabbè Insomma Tutta questa gente qui E Quindi mi ha fatto ridere Questa cosa Che secondo me È andata a riversamento Secondo me All'Universe Ha detto Noi ti firmiamo Un Ti facciamo firmare un contratto Se tu ci fai altre serie Quei vampiri Che non andate bene E fa Vabbè Volevo parlare Dei pescatori Non lo so Del New Hampshire Ma Vabbè Farò ancora I vampiri Adolescenti Quindi Vampire Academy In arrivo Dove Non lo so Boh Non me lo sono segnato Sono stato sciocco Ah no Su Peacock Arriva su Peacock Molto bene Poi Altra notizia Arriva un nuovo Cartone Di Batman Creato Che si chiamerà Batman Cape Crusader Interessante Perché è creato Da Bruce Timm Che è di fatto Il creatore Del DC Animated Universe Nonché il creatore Di Harley Quinn Personaggio ormai Diventato iconico E arriverà su HBO Max E non ho capito Se è anche su Cartoon Network Ma mi piaceva Sottolinearlo Perché Bruce Timm Come prima cosa All'inizio Della creazione Del DC Animated Universe Ha creato Il Batman Quello che noi abbiamo visto Da bambini Vi ricordate quello Con la sigla di Cristina Davena Che guardavano Su Italia 1 Bruce Timm Era il creatore Di quel Batman E Chiaramente Insomma C'è abbastanza interesse Per il fatto Che torni A raccontare Batman Con i mezzi Di oggi Con tante esperienze In più E vediamo Alex dice Ma non era un film Del 2014 Forse ti stai riferendo A Vampire Academy E la risposta È sì C'è stato un film Di non enorme successo Nel 2014 Tratto da quei libri lì Non hanno fatto poi Altra saga Cinotografica E si è passati direttamente Alle serie tv Abbiamo veramente Quasi finito Abbiamo Forse non avevamo mai parlato prima Anche se in realtà Era stata annunciata Un po' di tempo fa La serie Netflix Con Arnold Schwarzenegger Questa sarà una roba Veramente Super ridere Tra l'altro Che arriva in un momento particolare Perché Schwarzenegger Praticamente sta esortando La gente a tornare al cinema L'ha fatto con una Uno studio nuovo Insomma Un'operazione Più o meno di marketing Che si chiama The Big Screen Is Back Che richiama la sua Frase iconica Di Terminator I'll be back Che non è iconica in italiano Perché in italiano Era stata tradotta con Aspetto fuori Non è diventata iconica per niente Insomma Sta cercando di Convincere la gente A tornare al cinema E intanto lui si mette a fare La televisione Per la prima volta Nella sua carriera E farà una serie Che dovrebbe essere Una spy story Che dovrebbe essere Un po' nell'ambito Del true lies Quindi un po' commediosa Anche come Altri suoi esperimenti Cinematografici In passato E con lui Ci sarà Monica Barbaro Che è Attrice un po' A rampa di lancio Fra poco la vedremo Nel nuovo Top Gun E insomma Dovrebbe essere Una spy story divertente Con Svalzeneghe Su Netflix Questa ce la dobbiamo Guardare di gusto Ultima notizia Credo Ultima notizia Credo Sì Forse era l'ultima Che Amazon Ha rinnovato Già per una seconda stagione The Wheel of Time Che è una serie fantasy Che ha appena finito Di produrre la prima stagione Hanno già annunciato La seconda The Wheel of Time Tratta dai romanzi Di Robert Jordan Che io non ho mai letto Ma che Ho ordinato Il primo libro Il primo romanzo Sono tipo 15 Ho ordinato il primo romanzo Non c'era neanche su Kindle Quindi ho pagato 22 euro Per farmelo mandare di carta Non leggo un libro di carta Da una vita Non è vero Però insomma Non sono più tanto abituato E Quindi insomma La ruota del tempo È una saga letteraria Che i fan del fantasy Conoscono molto bene E Amazon Che già ha in canna Comunque La serie su Signore degli Anelli Si butta su un nuovo Su un altro franchise Fantasy Di grande successo internazionale Insomma Amazon su sto fantasy Ci punta molto E diciamo che Ci tiene tantissimo Che la prossima Game of Thrones Sia sua A questo punto Non so come altro Interpretare Questa cosa qui Ci sarà Rosamund Pike Come vedete dalla foto E C'è la foto sì C'è la foto sì E basta Quindi se non sapete Cos'è la ruota del tempo Andate su Wikipedia Un fantasy Ragazzi Un fantasy Abbastanza Classico Nelle sue Direttrici principali Insomma Non succede niente di Che se ve lo dico così Succede Chissà che Basta No c'avevo un'altra Che Ma una sciocchezza Non ho tirato giù Neanche la foto Sara Ramirez Che è la Vi ricordate Calli Torres Di Grey's Anatomy Si è unita al cast Del sequel di Sex and the City Che è Un disastro annunciato Per il fatto che Non c'è Samantha Che ci intornano Le vecchie carampane E consentitemi di dirlo Non perché Abbi niente contro Le signori a una certa età Ma perché Sex and the City Basta BASTA Sex and the City BASTA Ha rovinato già dei film Piantatela È morto Smettete di toccarlo Col bastone Non c'è neanche Samantha E adesso arriva Sara Ramirez Non sappiamo Non sappiamo Cosa Cosa succederà Secondo me abbiamo finito Ragazzi Sono le 23 35 Io ho comprato Le nuove cuffie Le cuffie specifiche Da Playstation Con cui adesso vado a giocare A Returnal Che sentirò tutti i mostri Che mi arrivano Da tutte le parti Sarà Mi faccio un'oretta Di grandissima Gioia Manu Che evidentemente è grande fan Dice Ho una paura per The Wheel of Time Che non avete idea Come sempre giusto che sia Avere paura Quando siamo affezionati A una saga letteraria E la vediamo Trasposta in Io appunto Forse mi sto facendo del male A cercare di cominciare A leggerla adesso Con l'idea Che perché Ormai non l'hai letta Per 30 anni Tanto vale Che tu ti veda la serie No mi va Mi va Mi va così Scattegat Poverino Si è addormentato Ha perso la puntata Vabbè dai Te la puoi recuperare Ma ti assicuro È stata anche una puntata Difficoltosa Per certi punti di vista Non è stata una puntata divertente Come le altre Ma perché siamo persone serie Abbiamo dovuto fare Una cosa fatta bene Fatta bene Ah sì però ti sei perso Effettivamente il collegamento Del villa in diretta Dalla metro Questa è stata una brutta cosa Perderci Questa è molto vero Scattegat Che però è lanciatissimo Dice Peggio dei film di sex C'era il prequel Che era Carrie No? Si chiamava Carrie Il prequel di Sex and the City Sì che era veramente Una robetta Che non Non gli è Interessata nessuno Mick Michelangelo Dice Ogni libro La ruota del tempo Pesa almeno un chilo Ma ho visto che La saga parte Con un libro di 700 pagine Così Per non farci mancare niente Infatti ho un po' paura Ho un po' paura E E vabbè E vabbè Ah The Carrie Diaries Sì Carrie Carrie era quella di Stephen King The Carrie Diaries Bravo Cappe Anzi Cappe Basta Chiudiamo perché Non posso accettare Che Cappe Mi corregga una terza volta Eh dai Basta Perché se no Eh poi Eh ok Manny dice Io sono a metà del secondo libro Dai Arriverò anch'io Robby ti dice Io ero fan dei libri di Shannara Ancora non ho perdonato Quella monnezza che hanno fatto Ma secondo me Di Shannara Della serie Shannara Non è tanto la monnezza in sé È che è una monnezza viscida Una monnezza vigliacca Perché il pilot Non era neanche brutto Allora A me i libri di Shannara Non piacciono Io ho letto il primo L'ho trovato Una noia mortale E uno scopiazzatore I signori degli anelli Così palese Da Mamma mia Cioè Ma poi è uscito due anni dopo Cioè Mi sembrava proprio Oddio Ma detto questo La serie iniziava con un pilot In cui avevano speso Miliardi di dollari Venezuelani No Se fossero dollari Venezzuelani Varebbero meno Ma insomma Miliardi di dollari E già dal secondo episodio Tutto calato Tutto girato in tre stanze Una roba che non si poteva vedere Non si poteva vedere Il primo Il primo Shannara È il signore degli anelli Asciugato Sì E Anche asciugante Per quanto mi riguarda Forse avevo letto prima Il signore degli anelli E se leggessi oggi Il signore degli anelli Mi sembrierebbe pesante Perché non è un libro Frizzantone Il signore degli anelli Comunque la si voglia guardare Tanto bello Tanto seminale Ma non frizzantone Ma leggere Shannara dopo Cioè Legge la stessa cosa Quindi Ma perché devo leggere questa cosa Va bene ragazzi Sono le 23 23 e 38 Shannara Devolla Sarebbe Decolla Come un ferro da stiro Non ho capito bene questa cosa Onestamente Ma va bene Ma va bene Ragazzi Io vi saluto qua Perché sono le 23 e 38 E devo anche bere dell'acqua Perché c'è tutta La trachea Che è tutta secca Ci vediamo Lunedì Sì Lunedì Col villa Chissà se con degli ospiti Non lo so Il lunedì è così in là Visto che saltiamo il venerdì Che chi lo sa cosa può succedere Da qui a lì Spero che non vi siate annoiati troppo Con la puntata Che comunque sentivo di dover fare Lunedì cercheremo di essere stupidi Così Per essere un po' di parcondicio Buonanotte E ci vediamo Ciao